benvenuti ben ritrovati una nuova puntata di res pubblica suddivisa in due parti in questo primo spazio di approfondimento è piacere di essere con il sindaco di custonaci la dottore giuseppe morfino come va bene bene è un po di freddo però riusciamo a sopportare il freddo ma d'altra parte l'inverno abbiamo 15 20 giorni l'anno insomma possiamo pure sorridere ci dobbiamo un po di più certamente a custonaci siamo un po in collina ma si sta bene si sta bene perché si sta bene perché c'è un'area pulita diciamo che non c'è il traffico in una città questo è vero e poi in collina diciamo l'aria è sempre più pulita beh da dove iniziamo iniziamo dove vuole direttore ma a me rischiace che non ti ricambi di sindaco ma guarda è una scelta di vita già quando cinque anni fa mi hanno convinto a candidarmi io ho detto comunque vada sarà un solo mandato comunque vada sia che fossi stato sindaco sia che fossi stato consigliere di opposizione perché a un certo punto uno a parte che deve dare spazio agli altri a un certo punto uno deve anche fare una scelta io siccome sono negli anta la mia scelta è una scelta di libertà nel senso di avere la possibilità di di essere di dedicarmi un po ai miei passatempi di dedicarmi un po anche alla mia famiglia perché guarda io non ci credevo ma oggi fare sindaco ti impegna troppo ma davvero è una poi è capitato un periodo difficile col covid quindi immaginiamo la situazione quella che però complessivamente sono soddisfatto e devo dire colgo l'occasione di ringraziare i miei assessori consiglieri comunali debbo dire complessivamente è stata una un'esperienza positiva un gruppo coeso fino all'ultimo tutti il gruppo consigliare sostenuto la questa amministrazione e da questo punto di vista sono contento e mi auguro che in prospettiva questo gruppo condividi è stato difficile e certamente rispetto a prima quando facevi il sindaco appunto in altri tempi i tempi sono difficili e casa cambiato tutto soldi non ce n'è bisogna fare sveramenti non ce n'è personale ce n'è poco le magie uno deve proprio riuscire a fare però diciamo ci sarà certamente qualcosa per cui tu dici beh sono orgoglioso che sebbene sia stato un periodaccio covid compreso sono riuscito a porre in essere questo guarda io sono contento per diversi aspetti intanto un primo aspetto è che il mio comune ha il bilancio regolarmente approvato sia il bilancio di previsione quindi 2022 perché nonostante siamo a gennaio 23 che devono approvare la previsione del 22 abbiamo approvato il 21 ancora pure qualcuno non lo so se c'è anche 21 abbiamo approvato del consuntivo quindi dal punto di vista del bilancio la situazione è sotto diciamo complessivamente positiva e non ho aumentato un euro di tasse e questo purtroppo non tutti i comuni perché molti comuni hanno aumentato anzi ho diminuito all'inizio del mio mandato l'IRPEF da 0,80 a 0,40 e poi diciamo che ho realizzato diverse cose che erano nel programma amministrativo che so ho aperto l'asilo nido che era chiuso una struttura molto bella funzionante addirittura vengono cittadini di fuori a a chiedere di entrare nell'asilo nido di custo anche i comuni viciniori ho aperto i giardini comunali giorni fa abbiamo aperto il teatro comunale abbiamo potenziato diciamo anche dal punto di vista dell'efficienza del comune perché abbiamo già sferito tutti gli uffici in un'unica struttura dove c'è diciamo dei locali bellissimi che è l'ex scuola del marmo con parcheggi ampi quindi abbiamo concentrato perché spesso il cittadino veniva sballottato da un ufficio all'altro perché erano in diversi plessi il comune era in diversi plessi per cui magari si andava all'officio che non deve andare al protocollo si andava a regioneria non deve andare adesso in un'unica struttura c'è tutto da là all'azienda e quindi sono contento anche di questa realizzazione e poi diciamo anche contento di una serie di opere pubbliche che sono in fase di completamento e mi auguro che prima che finisca il mandato di poter tagliare anche il naso dalla palestra che era abbandonata l'abbiamo messa a norma e quindi penso un giro di un mese sarà consegnata alla pista ciclabile al lungomare cristofo colombo e al centro canoe queste sono cose poi a giorni andrà in appalto abbiamo avuto un finanziamento da pnrr per la scuola materna che era un stato di abbandono la demoliremo ne faremo una nuova di un milione e mezzo poi abbiamo come tu sai riaperto anche lì tagliato il naso della riserva naturale orientata di monte cofano anche lì circa un milione e mezzo stiamo realizzando un'opera importante in un'area che riguarda baglio messina dove c'è non faccio pubblicità ma c'è villazzina e lì praticamente c'è un finanziamento da strade beni culturali di circa un milione e 300 mila euro i lavori sono in corso praticamente vengono riqualificate tutte le strade con i muretti antichi diciamo vengono quel borgo diciamo viene valorizzato abbastanza quindi certo c'erano alcune cose che approveremo stasera approveremo stasera il pudumo cos'è il pudumo il piano utilizzo di mano marito una cosa molto importante è due anni che ci lavoriamo ringrazio l'assessore campo che l'ha seguito in maniera particolare due anni che ci lavoriamo perché spesso le normative in corso d'opera cambiano poi bisogna anche tenere conto della realtà del nostro territorio quindi questo piano dà un terrore impulso all'attività turistica di corvino perché ci saranno nove aree nella zona di maniale che possono essere sfruttate per fare i chioschi per fare aria diciamo per servizi per servizi per capirlo io parliamo sempre del lungomare o ci sono noi partiamo da foggia ok fino a frassino tono praticamente tutta in base di chiamare di maniale piano non facciamo un piano per le proprietà private ma solo l'area demaniale e che poi sarà concesso dal demanio quindi non da noi noi dobbiamo soltanto adottando lo stasera dobbiamo mettere solo il visto di compatibilità poi sarà il demanio per cui diciamo chi vuole in base a questo a questo piano che noi pubblicheremo che stasera approveremo il consiglio comunale valuterà se allocare una struttura turistica in un posto in un altro posto e sarà poi il demanio ad approvarlo e autorizzarlo pagando come tu sai l'area demaniale si paga e quindi questo è un altro un altro risultato importante che ci lavoravamo da due anni e finalmente stasera lo adottiamo beh insomma quindi soddisfatto invece cos'è che non ti ha soddisfatto cosa non sono soddisfatto non sono soddisfatto perché non siamo riusciti a portare a termine il piano regolatore e poi non sono soddisfatto perché avevamo partecipato l'anno scorso a un bando diciamo che consentisse ai comuni anche a quelli inferiore ai 15.000 abitanti di poter partecipare perché due anni fa parteciparono soltanto i comuni superiori ai 15.000 abitanti adesso per dirne una qua vicino a noi sia Erice che Trappano hanno avuto dei finanziamenti cospicui che si chiama regionazione urbana questo bando poi hanno fatto una norma che anche associandosi si poteva partecipare noi l'abbiamo fatto con Valveri nel suo San Vito l'ha fatto con Paceco e così via però purtroppo siamo emperatore non siamo riusciti ad avere questo finanziamento di 5 milioni che ricordava questo mese Valderici nel mio caso perché il finanziamento era di 5 milioni ciascuno perché 5 milioni ciascuno no 5 milioni ogni gruppo quindi in questo caso io con Valderici e Paceco con San Vito e così via questo consentiva infatti si chiama regionazione urbana e consentiva di recuperare alcune cose abbandonate noi avevamo diciamo programmato c'è un'area dove c'era un vecchio macello volevamo farne un'area a parcheggio poi c'era un'area dove c'era vicino alla scuola del marmo dove c'era il municipio c'era un'area abbandonata cioè volevamo recuperare un po' tutte queste aree abbandonate però nella valutazione c'è un meccanismo particolare nel calcolo dei punteggi e noi veniamo con le zone ricche quindi non siamo entrate perché non siamo zona povera ecco e questo mi dispiace perché era una cosa molto interessante una cosa molto interessante certo si può fare sempre di più poi l'altra cosa nonostante l'impegno continuo in questi tre anni e mezzo quasi quattro anni a marzo è il problema della rete idrica della rete fognante insieme ad idrio integrato credo che notizie di questi giorni abbiamo il commissario del lati che servirà solo il commissario del lati il presidente rimane sempre sinodica esattamente il commissario del lati che è una donna se non ricordo male deve solo procedere a individuare a chi affidare il servizio proprio si deve fare esattamente dici bene direttore l'affidamento di questo piano d'ambito che noi abbiamo approvato nel dicembre 2021 che purtroppo in questo anno 2021 non siamo riusciti a non vi siete trovati d'accordo lì come sindaci obiettivamente no non siamo riusciti c'erano diverse ipotesi nella sostanza privato pubblico la maggioranza dei sindaci eravamo del parere di affidarlo diciamo a una società pubblica non a una ditta privata è stata contattata anche l'AMAP a Palermo che è una società interamente pubblica e questo purtroppo non andrò a buon fine quindi poi è stata fatta una norma a livello nazionale correttissima che diceva se entro settembre voi non provvedete la regione non era commissaria se la regione non provvede lo stato commissaria anche la regione per fare questa cosa perché addirittura non si può partecipare ai bandi per avere finanziamenti sia per il sistema fognario che per la rete idrica i comuni singolarmente non possono partecipare né singolarmente né comeate se non abbiamo affidato il piano d'ambito e noi abbiamo problemi seri a questo nazionale non solo per l'acqua ma quello più grave ancora riguarda il sistema fognario dove i depuratori sono sequestrati da cinque anni e quindi è una situazione molto seria, molto grave anche il depuratore con sortire di trap è sequestrato questo è da pochi giorni questo è da pochissimo qui da cinque anni nonostante i progetti, nonostante la sollecitazione il ministero dell'ambiente, regione e cose varie non siamo riusciti ad avere c'era un vecchio finanziamento però era insufficiente che riguardava il riutilizzo dell'acqua e rete per produttore industriale adesso siamo entrati in un programma del PNRR per 7 milioni e 600 mila euro però se non si fa questo discorso del piano d'ambito non possiamo accedere a questo finanziamento e così lasci il passo a Vincenzo Montaleone l'attuale Presidente del Consiglio sì, sì, io credo e sono convinto che la scelta che il gruppo Condividi ha fatto è una scelta giusta perché Enzo Montaleone è stato vice sindaco nel prima metà del mio mandato e poi nella seconda metà Presidente del Consiglio ha l'esperienza e la competenza per poter svolgere questo ruolo perché io riconosco, lo riconosco io ma tutto il gruppo riconosce a Enzo Montaleone queste qualità per poter gestire e continuare questo progetto siamo già in campagna elettorale due candidati sindaci ci sono sono Fabrizio Fonte e appunto Vincenzo Montaleone potrebbe pure arrivare in un testo aspettiamo i prossimi giorni che cosa decida e ballo levante sì, anche queste ipotesi sì in piena campagna elettorale a occhio mi sembra una bella battaglia sì, sarà una bella battaglia io l'augurio che faccio io prima scherzavo, dico alla fine questa battaglia con i due candidati sindaci non me ne vogliono dove sono squisite Fabrizio Fonte e Vincenzo Montaleone si traduce in bica contro morfino no dai, non è bica contro morfino noi non abbiamo niente di personale con l'ingegnere bica sono due progetti diversi due storie diverse non c'è dubbio due storie diverse sono due storie diverse e due progetti politici diversi però penso che sia Montaleone che Fonte avranno le loro peculiarità le loro caratteristiche mi auguro che sia una campagna elettorale serena con diciamo meno scontri del passato ma secondo te Montaleone dirà che è una candidatura nel segno della continuità sì, l'ha già dichiarato nella continuità proprio vuol dire che anche per lui ha fatto ma di fatto è stato vice sindaco che prende il consiglio di questa maggioranza e il sindaco scende come si pone in questo caso? cosa sei? io il sindaco scende sarò a suo sostegno sosterrò Montaleone prima perché sono convinto della sua capacità e poi perché è un progetto che ho portato avanti e quindi questa è una continuità del mio progetto naturalmente si farà un programma nuovo si aggiornerà il programma però diciamo l'asse di questa candidatura è il gruppo condivide quando ti sei candidato quasi cinque anni fa appunto a Custanaci ero presente alla comprensa stampa ti ricorderai qua trovavano all'hotel Tiziano un sacco di giovani proprio puntavi sul rinnovamento sì ma infatti ho avuto tanti giovani assessori che adesso si candidano nel consiglio comunale anche questa strategia diciamo così ma è giusto così no ma è possibile che che diciamo l'attività politica amministrativa venga fatta sempre dalla vecchia classe dirigente io appartengo alla prima repubblica come si suol dire e non rinnego questa mia storia e quindi bisogna fare in modo che i giovani entrano in politica perché la politica è un impegno sociale i comuni, le città hanno bisogno di una nuova classe dirigente perché se no si crea il vuoto e noi dobbiamo lavorare io questo è un impegno e ripeto tanti giovani sono stati con me in giunta adesso saranno in consiglio comunale si cantederanno in consiglio comunale adesso a breve ci sarà la Fiera Internazionale del Turismo Cursonaci va, non va, come si deve essere? no noi non siamo andati in questa siamo andati in un'altra con un amico Salerno che ha organizzato un'iniziativa molto importante anche con un costo diciamo modesto perché i comuni hanno sempre difficoltà di natura economica diciamo che vi partecipa il dissetto turistico a nome di tutti i comuni aderenti ecco perché c'è questa struttura diciamo solo al comunale noi abbiamo sempre partecipato mettendo anche i soldi nel marketing di promozione turistica e quindi vi partecipa in questo contesto a proposito di turismo hanno riconfermato Ombra la guida dell'Aerges si ipotizzano questo accorpamento privatizzazione che funziona con Palermo il polo aeroportuale della Sicilia occidentale che ne ha messo il sindaco Morfino? ma io condivido questa cosa perché non diventiamo diciamo che Trapa non diventa soltanto un soccorso in momenti di bisogno ma se fa parte di una programmazione per cui Palermo e Trapa hanno tenuto conto anche diciamo delle storie delle presenze turistiche ma ripartendosi quelle che sono le competenze l'abbiamo visto anche il porto sta andando avanti anche nonostante noi non abbiamo l'autonomia tutto sta alle capacità di chi dirige eventualmente questa nuova struttura e sta alle capacità anche degli amministratori anche del territorio per difendere questa realtà perché noi questa provincia vive del turismo sì c'è l'agricoltura abbiamo anche altri nel nostro caso c'è il marmo però il turismo credo che sia per le nostre caratteristiche territorio l'ambiente il mare il sole i beni culturali di cui siamo ricchi credo che il turismo sia la cosa meglio quindi Birgi deve diventare un polo importante anche associato con Palermo io non sono contrario a questa posizione ripeto purché vi sia rispetto certo senti sindaco a proposito di turismo negli ultimi anni sempre più proprio il territorio di Bussonacci si sta ponendo grazie all'iniziativa di una persona in particolare ma che da pochi viene accompagnata secondo me parlo di Memmo Gambina si sta ponendo come un polo di attrazione per quanto riguarda la speleoarcherogia cioè lì ci sono reperti millenari pietre antichissime invasi tu dici bene grotte però non mi sembra che ci stia da puntare ringrazio e forse ti è sfuggito noi nel 2022 abbiamo fatto un convegno internazionale sui geosidi a Custanaci sono venuti professori di tutto il mondo per questo convegno importante è organizzato da giovani di Custanaci ma in maniera particolare l'associazione di Sracuso dove il professore credo che si chiami Ruggeri è stato un convegno molto partecipato professore di tutto il mondo dell'università di tutto il mondo anche dell'università di Catania e devo dirti che loro addirittura mi hanno fatto richiesta per fare un avere dei locali dove loro vogliono diciamo fare un centro per dare la possibilità che i cittadini i turisti conoscono queste bellezze perché noi in atto di queste grotte soltanto una c'è un decreto della regione che diciamo la considera già un territorio diciamo acquisito ai beni della regione che è la grotta rumena c'è un decreto ma loro stanno lavorando perché mi dicono io non sono mai andato in queste grotte quindi parlo per le cose che mi dicono i giovani anche di Custanaci perché hai paura perché non ci sei andato no non è che dico che ho paura però vorrei che fossero più facilmente accessibili perché il fatto di entrarci in una condizione poco sicura anche se loro intanto mi spingono tu devi venire però vedo le foto ci sono le cose bellissime questa di Rumena è una grotta bellissima ho visto delle cose e quindi questa associazione diciamo Iblea di Ragusa che viene spesso a Custanaci che ha organizzato a Custanaci che noi abbiamo contribuito dopo l'altro anno un grosso contributo sono stati quattro giorni davvero partecipati mi ha chiesto dei locali per poter fare questo centro di informazione e stanno lavorando anche perché la regione diciamo altre grotte vengano acquisite non sono solo le grotte lì ho visto ci sono proprio pietre millenarie sostiziali poi ci sono esattamente ci sono dei punti di osservazione particolari anche lì io a questo segno che nel Custanacese la civiltà era presente ben prima di quello che noi io ho partecipato a questo sostizio d'estate che avviene nel mese di giugno cioè anche quello d'inverno ho partecipato perché a parte diciamo Mimmo Gambina vi era la Presidente del Consiglio Elena Angelo che è che praticamente assieme a Gambina e ad altri ha organizzato questo evento ed è stato anche questo un evento molto bello io non avevo mai partecipato a questo sostizio tu guarda lì e vedi questo fenomeno diciamo naturale che avviene e quindi ci sono queste realtà che vanno c'è da riscoprire una storia insomma lì nel Custanacese ma devo dire io per esempio ho visto anche a Custanacese vengono tanti cittadini stranieri a fare segno sulle rampie della montagna dicono che queste nostre montagne queste di Cerriolo ed altre sono diciamo particolarmente funzionanti particolarmente valide per poter fare questo tipo di sport ho visto il rampie io onestamente un giorno che giravo Cerriolo ho visto queste stranieri ne sapevano più di me avevano dei libri praticamente io facevo meglio sono il sindaco non conosco queste caratteristiche famiglie addirittura c'erano anche bambini che salivano che già cominciavano a salire delle cose molto belle il territorio ha queste grandi caratteristiche Monteleone questa via la vuole perseguire secondo te sì secondo me sì lui diciamo ama il territorio ama l'ambiente è uno molto impegnato nel sociale quindi io sono convinto che lui e poi devo dire noi abbiamo anche consiglieri comunali attuali che sono inseriti in questo contesto sia nel contesto come dicevo diciamo di questi eventi dei geositi consigliere Mazzara ad altri gruppi che si sono impegnati a questa portare avanti cioè loro materialmente vanno dentro le grotte fanno questa cosa assieme ai ragazzi di Ragusa a questo professore che davvero merita tanto bene come chiudiamo? chiudiamo tanto ci rivediamo da qua alle elezioni un'altra due volte devi venire solo per me io sono sempre a disposizione quando il direttore mi chiama sono a disposizione chiudiamo con un appello l'appello che questa campagna attuale di custodianale c'è dato che questo è stato il tema fondamentale si svolga in maniera serena tranquilla che si svolga complontandoci sui programmi e sulle cose fatte e sulle cose che si devono fare per il futuro e diciamo l'altro appello è alla partecipazione oggi c'è probabilmente sarà stata anche questa vicenda del covid e a proposito di un'altra cosa scusami se no 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 assolutamente che ho dimenticato noi a custodianici io come fu questa vicenda del covid dell'anno quindi 2020 sono tutti quelli dell'ASP per dirmi sindaco abbiamo sogno di un locale per fare l'usca turistica e ho detto ma come custodianici non è che questo grande centro turistico si abbiamo una buona presenza e l'ho messo a disposizione poi sono venuti a dirmi guarda ora adesso abbiamo bisogno dell'usca P quella di pronto soccorso è una struttura dove vi sia la possibilità oltre che del locale dove le macchine possano entrare e possano uscire e noi facciamo i tamponi e il comune di custodianici questa cosa l'ha fatta quindi anche in questo periodo difficile il comune è stato a disposizione e poi un'altra cosa e questo va a merito dell'ASP ma è un'altra cosa ci sarà il futuro sindaco che metterà la prima pietra io non credo di farcela ma già c'è il finanziamento stanno facendo il progetto noi quest'anno è stato diciamo assegnata come sede della casa della comunità tu mi vuoi dire cosa è questa casa della comunità cosa è questa casa della comunità allora il nuovo sistema sanitario non solo in Sicilia ma in tutta Italia prevede diciamo la realizzazione di piccoli ospedali di piccoli ospedali e anche di case delle comunità di piccoli ospedali di circa 40 posti letto e poi di queste case delle comunità sono dei poliambulatori specialistici e in provincia di Trabani dovranno nascere 13 quindi uno circa ogni 35 mila abitanti Custonaci è stata sede di questa casa della comunità e che rappresenta diciamo il territorio di San Vito Lo Capo Buseto Palizzolo Custonaci e Valderici circa 30 mila abitanti il Consiglio Comunale ha già deliberato l'assegnazione dell'area abbiamo fatto una convenzione con l'aspe per l'area dove deve nascere questa casa è un'area diciamo che è alla periferia diciamo l'asse dei marmi in modo tale che Buseto San Vito e Valderici facilmente possono raggiungerlo dove ci sono tutte le varie specialità di uso più comuni dal cardiologo al radiologo diciamo questo è importantissimo per i cittadini non andare a Trapani per evitare che ci sia diciamo questa sanità ospedale centrica all'ospedale ci devono andare i casi più gravi e particolari ma il territorio deve dare questo servizio e questa nuova struttura questa nuova una sorta di banalmente una specie di guardia medica allargata e polifunzionale non so come definire si funzionale perché magari ed è una cosa utile perché diciamo si evita questa commozione dentro l'ospedale se la sanità si porta sul territorio perché abbiamo visto che purtroppo con il covid il territorio era in grave crisi c'era difficoltà per i tamponi c'era difficoltà per i vaccini quindi questa idea di questi piccoli ospedali ci saranno 4 in provincia rama di questi circa 40 posti letto e poi questi 13 case delle comunità e questo nasce quindi questa è una cosa di cui io sono particolarmente felice anche come medico certo mi rendo conto va bene sindaco ci rivediamo grazie ancora grazie per la disponibilità grazie a voi sempre con sorriso sulla labbra bisogna essere ottimisti nella vita assolutamente sì è stato con noi in questa prima parte il dottor Giuseppe Morfino sindaco di Gussonaci lo rivediamo da quale elezione almeno un altro po' di volte almeno se ne faccio una ragione il sindaco grazie tra poco la seconda parte parliamo della giornata della memoria grazie a tutti